Ciao a tutti, io sono Emilia Trovato. Volevo invitarvi a seguire il nuovo programma di AP Web Radio e Social TV, intitolato L'arte della donna e il suo grande valore. Verrà condotto da me insieme ad altre donne straordinarie. Sarà un programma dedicato a tutte le donne, perché no anche a tutti gli uomini. Un programma nato per parlare di emozioni, di desideri, di storie di coraggio e di determinazione, di libertà, di forza e fragilità. Un programma per parlare di arte, di musica, di poesia. Avremo tantissimi ospiti, imprenditrici, casalinghe, donne che fanno lavori da uomini, donne capaci di cambiare il proprio destino e quello di chi amano. Potrete seguire il programma in diretta a partire da lunedì 22 novembre alle ore 16.30 sulla pagina Facebook AP Web Radio e Social TV. È in diretta TV su Viglio Sicilia, canale 93 del Digitale Terrestre. Non perdetevi la nostra programmazione e rimanete aggiornati registrandovi sulla pagina Facebook e attivando la campanellina. Potrete anche voi partecipare inviando i vostri messaggi o telefonando al 339 82 49 046. AP Web Radio e Social TV, la radio che si guarda. Io ci sarò e voi vi aspetto! Grazie! 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 Grazie!